Benvenuti in questo nuovo video della B1L2, quest'oggi torniamo con la nostra costruzione e non so neanche cosa tutto facciamo, però ci divertiamo un po', ho due persone qua che mi osservano e non so cosa vorrebbero, anche perché non sanno, se non un pugnale, che l'oggetto del loro desiderio ce l'ho ancora io, l'oggetto del loro desiderio io lo posso moltiplicare e mettere in mano in questo momento e fargli dire il mio devo farlo sparire, cioè fai una fossa e lo butto lì, se lo notano Premi Q, vorrei lanciarlo ma non lo lancerò, dicevo non so perché ce li ho capicini, forse Lo so, io ti sto aspettando al centro, sufficiente il pugnale e allora, 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 dormo, si che è il caso, così diventa subito giorno Falli pazientare, ho una proposta per voi, pazientare, stavo per dire, al contrario Vediamo se ha delle proposte interessanti adesso, cioè, non so, non so, non so, non so se è interessante A te sei una persona interessante? No, per niente Nenche a me, Loco forse un po' di più perché... Loco mi ha fatto i complimenti sulla mia build e quindi ha già guadagnato qualche mezzo punto Motivo per diventare Big Re Ma vuole sporcelo o ce lo deve stare? Superiore a quello di Loco, io con quello di Loco è arrivato anche un cefone, non l'ho ancora sentito So che c'è un video di 8 minuti di Loco che parla, sì sì, 8 minuti? Solo perché lui dovrebbe diventare Big Re 8 minuti di monologo! Motivo per cui ho deciso di non guardarlo e quando mentre è comparso un combattimento pvp Non so veramente cosa succede Ascolta, vengo da te Comunque Mark qua non c'è, quindi non credo che ci sia una persona che ci vuole parlare, quindi penso che voglia scrivere, però... C'è una rissa e Loco se n'è andato, quindi sembra tutto ok Allora, vengono mentre a vedere Luna Park, tanto credo che... Eh, ma io sono venuta al centro perché... Vabbè, torno lì dai Qui l'ingresso, prego... Questo è l'ingresso... Firmato, con le mie iniziali ho dovuto guardare un tutorial, è stato difficilissimo solo fare delle... sui banner, ma alla fine ce l'ho fatta Li ho mandato io al tutorial Sì esatto, me l'ha cercato Steph perché stavo impazzire, però sono riuscita a seguirlo Si entra in questa stradina con lampioni, una bancarella alla sinistra Esatto Potresti mettere però delle signe con tipo il cibo Sì, ma infatti ti ho detto mancano ancora qualche dettaglietto, non è del tutto determinato Pantinette Ho fatto anche il cestino, guarda Pamma, questo è il cestino Ok Carino Pantinette, qua abbiamo... Il primo minigioco Il primo minigioco Guarda, ti faccio vedere Ce l'ho io l'arco, tranquillo Ah, perfetto Hai frecce? Sì Allora, credo che ci sia un problemino Ah no, ha funzionato Perché quando l'ho provato io avevo paura che non uscissero i razzi Purtroppo per farlo bello e più scenografico ci vorrebbero quei razzi super colorati, no? Strafighi Non li avevo, sono di livello 1 bruttissimi Non li avevo mai Come vedete, in base a dove tu colpisci Esatto Ok, fai un ponteggio più o meno migliore, vedete E qui c'è la leggenda Se volete E solo con il centro perfetto Esatto Fai tutta l'esplosione Magari li chiedo a qualcuno i razzetti Quelli belli Eh, dovrebbe fare anche il puff Tutto colorato Però inventatevelo La cosa che mi piace e che ho detto a Fere è Facciamo anche varie difficoltà Cioè questa è la prima Poi magari mettiamo un lightblock tipo da qua E tipo da qui, raga, fare il centro Capite bene Esatto Ti ripeto, mancano ancora tutti questi micro dettagli Per ora sono riuscita a fare questo Porca miseria L'ho già presa sul personale, scusami Non sai come sono fatto Eh, non capisco di cosa sto sbagliando Oh, però hai fatto un buon tiro, eri sul bed Olè Olè Ok, quindi fino a qua Puoi anche recuperarti le frecce Ci si riesce Quindi almeno non le sprechi O infiniti nell'arco Ah, ok E poi Aspetta Oh, io le avevo recuperate quando le fia Eh, sono be... è bello, l'ho redatto, no? Sì, no, lascialo, lascialo Ok, e poi Questa zona l'avete già vista Esatto Con questo minigame, però ha aggiunto la stradina attorno Con un po' di lampioni, eccetera, eccetera Ti conviene passare da qui perché ho fatto anche la zona picnic Guarda che carini questi Ok Zona picnic Guarda che carini che sono Da questa parte Dove ci possiamo sedere, mangiare una torta, eccetera, eccetera E poi, infine, abbiamo appunto il minigame Che avete visto anche la scorsa volta Esatto Del basket Qui consigliavano di fare il tutto traslato di un blocco Perché è troppo facile il canestro al momento Allora, andate a scriverlo a chi ha fatto questo tutorial Perché io l'ho seguito papà Ah, basta spostarlo giù Però dai, no, effettivamente, se volete, sì Posso anche farlo un blocco più indietro Cioè, nel senso che inizia da qui e qui c'è lo slime, giusto? Quindi un blocco indietro Sì Va bene, va bene, posso modificarlo Salve Dove stai andando Dove stai andando? Dove stai andando? A sentire perché questo qua vuole diventare un re Mentre la stava guardando Ma dove siete? Eh, vieni allora giù dove ci sono le teste della montagna Così puoi vedere la zona che sto facendo io per la sfida Vieni, vieni Arriva, arriva, arriva Comunque stavo dicendo che il signor Steph ha la memoria corta Perché in realtà quando ci fu lo scontro finale della Big Vanilla 1 Il sottoscritto ha eliminato tutto il team avversario Sono io colui che ha vinto la corona di Buddy Non fidatevi a un truffatore E' arrivato quest'altro che è un clown Quindi ti ricordo signor Steph in magnifico questa cosa qua, eh Io ricordo che il suo Massimo Roda è stato generale Ma io da generale ho eliminato tutto il team avversario Ma evidentemente lei non ha il lignaggio sufficiente Cos'è il? Lignaggio Che cosa vuol dire lignaggio? Credo esista Giusto? Sì no, credo esista come parole Quando tipo sei di sangue reale, robe così, no? Ho visto da poco un telefilm con i Re E mi è rimasta lignaggio No ragazzi, non esiste, soltanto non esiste Credo esista Credo esista Allora, comunque Lignaggio C'è, c'è, c'è Stirpio discendenza Stirpio discendenza A presto Oggi ho imparato una parola nuova Grazie mille Lanciamo il messaggio corretto per favore 5 punti, grazie E poi? Allora, dicevo Io ho una proposta Da Big Gray Io ho una proposta che secondo me potrebbe un po' cambiare le sorti del server secondo me Ok Perché da Big Gray io vorrei fare una roba un po' particolare Cioè nel senso, nel momento in cui vengo eletto Io prendo sotto di me due sudditi E noi faremo i cacciatori del server E i miei sudditi guadagneranno i punti di coloro che verranno eliminati Una piccola parte ovviamente All'interno del server Cioè non sarò più io il cacciato Ma il mio team sarà il cacciatore stessi Cioè quindi tu praticamente vuoi che ti faccia diventare il re per essere io stesso sterminato No, beh, io ti sto proponendo in questo momento di farmi diventare Big Gray e far sì che tu, anche Fer ovviamente, faccia parte del mio team Ma sai che se io e Fer facciamo parte del tuo team, siano gli altri che ci ammazzano? No, Steph, perché io in quel caso Ragazzi, ovviamente mi conoscete, sapete che io ho una passione incredibile nell'incantare le cose, nel maxare tutto quanto Sai che perdo lo stesso No, Steph, fidati, io ho vinto con Loco con un'armatura in diamante Quindi, eh... Allora, io capisco la sua idea, lei vuole essere un re tiranno No, non tiranno, però solitamente il re Allora, ma preferisci, nella vita bisogna essere o tiranni o essere cacciati Tu preferisci essere cacciato o essere cacciatore? È una prospettiva interessante, però sa che in quel caso io temo che in tre giorni farebbero la colletta per i 2000 punti e la farebbero fuori Non so, cioè dovrebbero fare la colletta tutto il server, ma il problema è con quali punti se li eliminiamo Ah, perché dobbiamo pure guadagnare i punti se li killiamo? E certo, Steph Beh, però no, almeno devo dire che un'idea è interessante È l'idea... È una caccia, perché in questo caso abbiamo sia una sfida particolare all'interno del server e comunque smuoviamo un po' anche la situazione dei punti Cioè, non è più quella roba che tutti quanti sono fermi nel loro punto, ma ognuno deve comunque avere un po' quel timore all'interno del server Cioè, sicuramente è interessante Dobbiamo sentire anche l'idea di tutti gli altri Certo, certo, ragazzi Non le abbiamo ancora ascoltate Io la tengo in considerazione Eh sì, comunque secondo me l'idea è interessante Cioè, almeno creerebbe un sacco di situazioni particolari Io ho studiato tutto al minimo dettaglio Quindi ho già in mente di come poter fare tutto quanto Come poter strutturare ogni situazione Cosa fare, cosa non fare Voi fate quello che volete Sappiate che io vi ho proposto di far parte anche del team dei cacciatori Ok Quindi vedete un attimino voi se volete fare questa cosa Sappiate che comunque si potrebbero guadagnare anche tanti punti con questa prospettiva, eh Infatti Tirando è corrotto Steph, guarda che ti ho messo alle corde, eh Ti ho messo un po' alle corde, eh Eh però, Steph, non è che uno deve avere per forza l'idea di essere buono Cioè, ognuno se lo fa come vuole Io l'ho detto Quando ho annunciato questo progetto Ho detto L'obiettivo è il pubblico Quindi per me il re O in positivo o in negativo Certo Deve creare intrattenimento E quindi questa proposta è in linea con questa roba Esatto, esatto Quello che dicevo anch'io Cioè, sicuramente non è la prospettiva di Loco Che dicevo di diventare il big re perché me lo merito Cioè, non lo sapete Non ho ancora ascoltato il video Ma se lui dice per 8 minuti questa cosa Non lo ascolterò il video Esatto, ha mandato un video di 8 minuti 8 minuti Lui ha fatto il video su YouTube di 8 minuti in cui ne parla Me l'ha scritto su WhatsApp Eh, vabbè Allora, io Io spero che proponga anche qualcosa Certo Io vi ho fatto la proposta Ci ho tutto quanto già un progetto in mente Quindi Te l'ho già Te l'ho messo qua Ma ovviamente te l'ho messo anche un po' Diciamo anche frettolosamente, certo Però sappi che secondo me Ci può essere anche del largo intrattenimento Da parte di tutti quanti Perché pensa Come si potrebbero creare anche delle file E delle lotte anche dei team Che possono combattere Per arrivare prima di eliminare il big re E tutti quanti però dovrebbero avere paura Anche del team del big re stesso Eh, però lei mi ha fatto venire in mente una cosa Che io adesso qua non le dico Perché se la dico qua è uno spoiler Però Ne parleremo Mmm 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 Interessante Però Steph ha ridotto tutto quanto Ferry pensa Ci ha detto no, no Avrò sicuramente l'idea Esatto, esatto Hai cambiato subito idea Mammaa Eh? Stai più magnifico Editor Procione Censuri questo messaggio Eh, dell'idea Ma no ma Appunto È per quello È per quello È capito È capito Steph Cioè È capito cosa sta può fare Potrebbe essere su Capito In un momento A un certo punto Eh, capisci Eh, capisci Potrebbe essere quella Allora il fatto che io ho sviluppato questa idea È perché mi aspettavo Che arrivasse a un certo punto un qualcosa Capito? Mmh Comunichiamolo in questo modo Quindi io te la sto proponendo Ok Per far sì che Le cose si possano incastrare Ok Un pochino In un modo meglio Capito anche te Ferry un attimino Certo, sì 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 No io sono d'accordo Quindi È bella come idea, è bella Steph il magnifico Guarda Io sono già qua Se vuoi prendo una curva di carta Me la metto anche in testa eh Non c'è bisogno Dio Non c'è bisogno Se vuole però il naso da pagliaccio ce l'ho sempre No, no, no Guardi se non se lo tolga mai Che le sta molto bene Signor Steph Sempre simpatico Io volevo farle una domanda Visto che sono qui Certo, certo Cosa ne pensa del mio Lula Patti? Allora Fede Mi piace veramente tanto Perché Sì però c'è gente che ha fatto Tu cosa hai fatto? Oh Fio Facciamo una cosa Adesso do il vostro voto e venite con me Va bene? Vai Allora Non so che la mia è la più triste No no Fede Io ho fatto una cosa Un piccolissima Cioè ho fatto una roba veramente minuscola Quindi io già apprezzo tutto quanto questo Perché Apprezzate le mie scarse capacità E sappi Che io oggi Per questo video è stato delle shaders Di uno dei miei youtuber americani preferiti Quindi esce ancora più figo Ah ok Bello perfetto Quindi veramente bella Come zona Mi piace un sacco Anche l'idea di mettere Queste cose qua con le build hack Che mi piace un sacco Sì sì esatto Ho visto un build hack Mi piace che questa wave dei tpoc È molto più costruzioni anche Devo ammettere Sì sì Oh ci sto provando Di certo non ho puntato a cose esagerate Perché non le so fare Sai E quindi ho pensato però che poteva essere carino Fare dei minigiochi per tutti Sai che io amo quello che state costruendo Anzi quello che stai costruendo Perché sicuramente Stefano sta costruendo Allora Vabbè Stefano sta facendo il presentatore Sì no ci sta Cioè facciamo cose diverse Allora venite dietro al punteggio ragazzi Allora Stef Io ho costruito Allora la location Mi piace un botto La location è diciamo collegata alla media Cioè nel senso Come vi dicevo prima Sapete che mi piace molto incantare le cose Fare anche le cose per gli altri Solo che a un certo punto ho detto Certo non mi conviene Se vado a spendere anche i miei minuti E queste robe qua Quindi ho pensato di costruire Una zona del mercato nero Dove io possa vendere gli oggetti Che vado a incantare per gli altri E di conseguenza ho voluto costruire un mercato Che sia collegato direttamente Alla zona punti Quindi di qua noi scendiamo Direttamente da questo lato Si va in questa zona Che ho costruito qua sotto L'ho voluta a rendere diciamo Una zona magica Con tutto quanto questa ametista Ok Bella la costruzione Adesso manca solamente un dettaglio Cioè nel senso in tutti gli angoli Come vedi per esempio Qua c'è questo armor stand Verranno messe tutte le armature Che metto la meta Purtroppo Ah carino In Minecraft Java Non si possono mettere sugli armor stand I picconi Le spade Le scudi E queste cose qua Quindi quella è un po' una pecca Però diciamo che ho voluto strutturare questa zona Per fare questa parte qua di mercato nero Vicino allo spawn Che poi è collegata a casa mia Perché da questo lato invece è casa mia Ah questa è già casa tua Questa è casa mia Sì sotto al mio lago Ah è vero È vero il lago Sì lo vedi sopra È carino È bella la zona Venite venite con me Venite con me Perché ho rifatto anche tutto quanto Sapete che gli scorsi giorni Perché adesso Avete un po' di tempo Per vedere una cosa Ho fatto tutta casa mia nuova Guarda quanti pesci hai preso Non per il museo Ma per casa tua Eh ma perché per il museo Credo che siano tutti quanti presi Mi hai detto Marci eh I pesci Boh di solito se li mangiano Io non ho visto pesci Ah vabbè Quindi questa qua è tutta quanta La zona di casa mia Sono anche gli acquari dietro le casse Ma il magazzino l'ho visto Sai perché? Perché per Luna Park Mi serviva della Blackstone Ok E volevo vedere se ne avevi in casa Ma l'hanno rubata da tutti Ci sta ci sta Mi servivano tipo otto pezzi Quindi il magazzino l'ho visto Hai fatto bene hai fatto bene Da fuori però non è rifatta la casa giusto? No no Perché adesso ho rifatto tutta quanta questa parte qua Che era vuota E adesso invece mi manca solamente di fare la parte sopra Quindi l'ingresso Certo Con la zona letto e tutto quanto Per poi terminare con la parte esterna Ok E quindi terminare tutto quanto il progetto della casa Perché al momento sotto è diventato un 10 e fuori tipo un 6 e mezzo Vabbè ma perché qui non ha toccato niente No esatto Perché paradossalmente prima la casa fuori era un 6 e mezzo e sotto era 0 Certo Iniziamo a strutturare tutto quanto E poi terminare con l'esterno Mi piace un sacco La roba dell'acquario ovunque è una figata Sì è veramente bella Faretti così mentre scendi Grazie Grazie Tanto sapevo già che non avrei mai vinto Ho detto almeno faccio qualcosa comunque di simpatico Io Che possa essere anche utile Perché ci si può sfidare in quei minigame Certo certo assolutamente Diciamo che io ho puntato con il mio minutaggio nel pensare a come diventare big gra Quindi Io sto cercando di capire quella cavolo di pecore Non lo so Ah vedi ecco quella che ti dicevo l'altra volta che c'era anche la pecore oltre lo zombie strano Ma la pecore non capisco come sia possibile fatta così Perché è appesa la vedi che è appesa È appesa Steph Con una corda Con la corda ecco bravo non mi veniva il termine Quindi è fatto con elitera tipo Ha il nome di inner bone ed è appesa con la corda lì sopra Sì sì capito C'è della creatività qua Sì sì Io non so chi le ha fatte queste minisculture Non lo so Non lo so neanche io Non lo so Comunque Si sta cambiando drasticamente la serie Sì Io di sicuro La contatterò Non so tra quanto Però ciò che abbiamo parlato è qualcosa che sicuramente accadrà Sì sì Ok ma Faccio lei Io la mia proposta da big ray gliel'ho fatta Vede un po' lei cosa vuole fare Faccia lei Faccia 2100 punti E mi sa che non sono state neanche pagate le tasse Porca Non Non Questa settimana qua era evasione Emo di no purtroppo No No secondo me È solo guerra che si dimenticasse Esatto Perché secondo me è solo guerra che si dimenticasse Vedrei che ora che ce li scontano Perfetto ragazzi Va bene La ricontatterò allora Va bene Allora ci risentiremo in futuro Arrivederla Ciao ragazzi Ciao Allora io adesso voglio togliermi il dubbio se Lightning ha continuato Io devo sapere se davvero si collegherà tutto Perché in quel caso per me è quasi impossibile che qualcuno faccia meglio di quello Eh sì È molto importante da capire E Nico è ancora dentro? Fammi vedere Sì 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 Sarei curioso di capire anche lui cosa propone per diventare te Ma secondo te Anzi non è secondo te Ti faccio la domanda diretta perché queste cose le decidi tu Ci saranno punti anche per gli altri tipo almeno se arrivi terzo tipo No i punti sono per tutti e in base ai voti Ok per chiunque partecipa Sì Ok È qua la musica Cos'è la musica? Cos'è la musica? Ma questa è la musica di qualcosa Adesso io ho difficoltato a riconoscerle quando sono modificate ma la musica di qualcosa Sì Sono sicuro Allora Oddio sono caduta direttamente dal centro Fammi vedere Ma è spettacolare Cioè è sempre meglio Si apre da qui Si scende qua E qui abbiamo Ah ok è solo estetica Però Però che roba Guarda qua È molto carina Che roba Cioè Quindi forse Non avrà dei voti alti di utilità Forse Perché in realtà guarda qui Vedi che questo qua è un tunnel Eh no bisogna Bisogna capire qual è il progetto finale Magari non ha ancora finito Ho capito È quello Non lo puoi sapere Eh perché raga se fa anche i collegamenti tra le case io penso che faccia 10 su tutto Vediamo Però vedi che sta andando lì a costruire Secondo me sta creando le trade Sì vedi che sta andando lì a costruire Vedi che c'è già un tunnel eh Eh Secondo me vuole collegare anche le case Io Temo che questo nel caso sarà un 10 su tutto Sì sì Vediamo Allora già solo la costruzione forse è la più bella Cioè non le ho viste tutte Però sicuramente questa è spettacolare Molto bella Sì Sono d'accordo Ti ripeto non le ho viste tutte tutte Quindi magari c'è qualcun altro che mi è sfuggito che ha fatto altrettanto cose fighissime Però anche questa è molto bella Allora Voglio sapere di che cos'è questa musica Non lo so Io odio quando non le riconosco mai Salve Salve Ho apprezzato il linguaggio del corpo Sì 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 Stavo anche facendo notare una pecora al contrario Sì l'abbiamo fatta notare prima Volevo confondere un po' le persone Ah Allora Allora E rimanendo attivo sul server Punto a favore Ed inoltre Ok Ho cercato di attaccare Rimoniamo un po' più sul family friendly il big re più volte Ok Questo per dimostrare la mia voglia di bramare quella corona tra le mie nella mia testa in realtà E inoltre siccome il pubblico è anche molto importante poi vedrà nella candidatura che mi sono ritrovato una presentazione powerpoint di dieci slide creata dal pubblico sul perché dovrei essere ma questo non spoiler vedrà poi in futuro Ok Fantastico Molto E in più cosa importante nel reality il trash e il trash insomma diciamo che lo attiro e lo creo mi Cioè insomma È un vanto questo Eh Dipende dal punto di vista però Ok Ok Quindi tipo Se diventi il re fai le canzoni trap Non ho detto questo però una notte di trash secondo me manca al momento nel big re Ok Sì sono d'accordo su quello eh Sono d'accordo Ok A noi piacciono solo i reality trash quindi io apprezzerei capito Ha finito le sue esposizioni E il sunto sì E poi vabbè Poi ci sarà però il video compreso di powerpoint Certo Con tutte le cose del caso Sì Lei è già stato girato poi mi farà sapere Ok Beh perfetto Io comunque entro questa settimana deciderò se questo coltello non sarà più mio e andrà nelle mani di qualcuno Cugnale Il coltello sembra da cucina Hai ragione Quindi È poco epico Beh per cucinare il big re Ah sì per cuocere Cuocere il big re Quindi diciamo che sapete almeno la deadline però vedremo ci sono tante candidature interessanti quindi capirò Però lei di base parte dal punto più alto ma ciò non vuol dire che è quello con maggiori chance perché dipende poi dalle proposte Le proposte sono la cosa più importante però di base parte avvantaggiato sugli altri proprio per la seconda posizione Ok Ok Ma non è nulla che le garantisce il ruolo ecco Giusto giusto Vuole provare il pugnale? Eh Funziona? Sì Sì Allora no dai E adesso si rompe dato che c'è stato il fail Quindi ora si rompe Il problema però che c'è Vuoi testarlo? C'è ancora questo Questo piccolo dettaglio Che abbiamo avuto problemi la scorsa volta perché non si rompeva Ma tu non l'hai rotto di proposito poi No no io ho provato a usarlo non si è rotto Eh ma potevi buttarlo Allora quindi prova a usare questo se si rompe così è sparito per sempre Ma che che Tu non puoi lanciare questo coltello Ma sì Come se fosse pane cara E questo chi devo usarlo scusami Eh può usarlo su di me basta che mi tengo un attimo in allupo Ok vai Non so perché stiamo facendo sta cosa Io non voglio farlo Ma vai 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 Adatto ormai non si è rotto Ok mi è rimasto Ma perché secondo me Guerra mi ha detto sì ma devo aggiornare Il problema è che Guerra sta lavorando un sacco a Roblox E quindi non abbiamo pagato le tasse Ma si è rotto Non ha fatto l'update non si è rotto Ah ecco E tutto a fare Lo faccio sparire va Lo faccio sparire Sarà sistemato per tempo Va bene Ok Ok Si spera E la sua costruzione invece sono i quattro draghi giusto? Si esatto Ok Così Bellissimi quelli Anche a me sono piaciuti Ah sì Sì ho puntato sul minimal ma Ma è vero che se spam spazio volo più lontano? Allora no in realtà no Appena vieni lanciato devi premere spazio Non devi premerlo prima Perché a me hanno detto spam premi che va più veloce No solo una volta Mi hanno mentito Va bene Grazie mille Le farò sapere A lei Arrivederci Arrivederci Io direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza Ci siamo fatti un po' di chiacchierate Io adesso entro domenica dovrò guardare i contenuti di tutti Per vedere se qualcuno mi convince a sufficienza Sarà interessante Però oggi abbiamo parlato con due dei papabili principali candidati E voglio vedere un po' cosa sta intera fuori Nel frattempo questa sfida delle quattro costruzioni Di quattro ristoranti di 10 Chissà quando terminerà Quindi Boh Chi lo sa Speriamo che vi sia piaciuta però quella di fare Questo ci spero Lo spero anche io Perché già mi sento triste Avrete anche un impatto E non dico altro Ditemelo che è carino Ci vediamo in un prossimo video Ciao Ciao Ciao